Nella parte finale dell'osservatorio rivolgiamo al dottor Lombardini domande su un paio di temi che ci sono stati richiesti alla trasmissione alla parte, il chiedere al vaso di Pandora, il filo diretto appunto con i nostri ascoltatori e avevamo rinviato a trattare questo argomento proprio qui nell'osservatorio. Parliamo prima di tutto del trattato TTP, quindi il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, volevo sentire un suo parere dottor Lombardini. Sì, quello che è successo ultimamente è che il 15 aprile di nuovo tutti i governi dell'Unione Europea, esclusa la Francia, guardate di nuovo che è contraria, e il Belgio hanno firmato per dare il via libera alla Commissione Europea di tornare a negoziare un trattato libero scambista con gli Stati Uniti d'America. E peraltro si dice che l'obiettivo è quello di concludere questo trattato e arrivare alla fine del trattato addirittura nel primo novembre del 2019, prima della scadenza di Juncker. E di qualche tempo fa la notizia è che già informalmente Trump e Juncker avevano parlato per riabilitare questo trattato che era fallito sulla base delle proteste di massa che si erano venute a creare, anche alcuni elementi di criticità sollevati dalla Germania e dalla Francia ovviamente. E mi fa un po' specie il tutto, perché voglio dire, se loro pensano di riuscire a concludere un trattato commerciale internazionale da qui a novembre, nel giro di pochi mesi, mi domando io come pensano di fare, perché il TTP era nato nel 2013, ce l'avevano messo quasi sei anni per arrivare a una conclusione, poi l'hanno bocciato, quindi qual è la risposta? Che probabilmente prenderanno il TTP, che non lo possono più chiamare così, perché ovviamente devono salvare la faccia, non possono dire che rifanno una cosa che hanno bocciato, e che proprio l'hanno bocciato, riprendono il TTP, lo tagliano, lo cucciano, al 90% fanno un trattato identico al TTP, così riesci a riuscire a finire i lavori entro il 2019. È evidente, perché non ci sono i tempi tecnici, se il TTP finiranno entro il 2019 devi prendere quello che c'è già, come hanno fatto con la Costituzione Europea, che era stata bocciata da tre referendum popolari, allora l'hanno rimessa dentro il Trattato di Lisbona, e in questo non sono nemmeno passati per la via dell'approvazione da parte dei pop. Questo accordo, che è stato siglato il 15 aprile, offre due mandati alla Commissione Europea, che ricordiamo è un organo non democratico, non eletto dalla popolazione, è in grado di legiferare in Europa, è l'unico ente nell'Unione Europea che ha potestà di iniziativa legislativa esclusiva e che appunto promuove le leggi che sono vincolanti sulle Costituzioni degli Stati membri. Ecco, quindi questa organizzazione con Juncker non votato da nessuno, deciderà con un primo mandato quali sono i dazi e le quote da eliminare tra Stati Uniti e Europa, ma è la parte di minore interesse, e la seconda parte invece quali sono le barriere non tariffarie da eliminare, che letto in maniera popolare barriera non tariffaria vuol dire diritti, tutele, principi di precauzione etc. Mi sembra non casuale, sempre nell'ottica internazionale, che questo TTP venga rilanciato il 15 aprile, proprio alla fine della turniera di Xi Jinping in Europa, quasi come risposta alla proposta della Via della Seta fatta da Xi Jinping, una controrisposta per dire tornate nella NATO economica, cioè al vostro TTP. Ovviamente con la pistola puntata alla testa, ricordiamo i dazi sull'acciaio, sono stati piazzati apposta per quella ragione lì, per farci approvare questo trattato. Assolutamente, il TTP praticamente uscito dalla porta, probabilmente rientrerà alla grande della finestra. Solo un telegramma, questo governo ha fatto qualche cosa che probabilmente gli elettori dei due partiti che formano l'esecutivo non si aspettavano. insomma, stiamo a vedere, però questo è da sottolineare. Una delle non poche cose ormai che non si è stata. Se queste firme qua fossero arrivate da un governo Renzi, probabilmente in Italia ci sarebbe stata una maggior avversione, invece è passata un po' sotto silenzio questa firma qua. Non dico che ci sarebbe stata una rivolta, perché noi le rivolte non le facciamo, come sappiamo, poi nella bella stagione si va al mare nel fine settimana, la dico come amara battuta. Ecco, un'altra domanda che voglio rivolgere a Dottor Lombardini, rivolta ci appunto da un ascoltatore a chiedere il vaso di Pandora. Sembra che ci sia stato il ritiro da parte di Trump della firma sul trattato ONU relativo al commercio delle armi che era stato siglato a suo tempo da Obama. Sì, c'è stato questo ritiro, però io commento telegraficamente perché secondo me si tratta di accordi alla fine formali, voglio dire, questo trattato ONU sulle armi, alla fine che cosa ti diceva? Mica impediva di avere ad esempio armi nucleari a questi stati, era un accordo che si viva come sempre a salvare la faccia, come il tipano, non so se ricordate, ma quell'accordo che era stato firmato proprio sulle armi nucleari, dove si volevano bandire delle armi nucleari dal mondo, ma poi guarda caso gli stati che hanno le armi nucleari non le hanno firmate. Ora voglio dire, se vogliamo mettere al bando queste armi, allora dobbiamo dire chiaramente che bisogna riconvertire il settore dell'industria militare al settore civile per la produzione civile e bisogna prevedere delle sanzioni economiche fortissime per chi non firma questi accordi, ad esempio se il tipano questo accordo avesse previsto per chi non lo firma pesanti sanzioni economiche, ecco questo sarebbe stato politicamente significativo, invece così si lascia tutto la volontà iniziativa dell'individuale, quindi i più forti vanno a spadroneggiare e i deboli firmano, ma cosa serve se non si mettono a spadroneggiare? Un attimo perché ci sono anche dei problemi tecnici sul collegamento, ma appunto per concludere sono contento che il dottor Lombardini abbia evidenziato questo fatto, cioè in pratica il ritiro da parte di Trump per alcuni, per i soliti pacifisti della domenica diciamo, era un aspetto rilevante perché faceva passare Obama che aveva firmato quella cosa come il buono e Trump invece come il cattivo che nella realtà come ha detto giustamente il dottor Lombardini, anche quel trattato firmato non è che limitava le armi e soprattutto le armi di distruzione di massa, quindi ha fatto bene il dottor Lombardini a sottolineare questo passaggio molto importante. Siamo in chiusura con l'osservatorio mensile di politica internazionale, quindi due cose, intanto ringraziamo il dottor Lombardini e diamo appuntamento con l'osservatorio a fine maggio e poi ricordo appunto la sua presenza e alle due super puntate, chiamiamole così, con i super ospiti, diversi super ospiti, le due puntate pre e post elezione europea e direi che l'intervento del dottor Lombardini si prospetterà estremamente interessante alla luce, lo ribadisco, delle bombe in prospettiva che ha lanciato a seguito a commento del trattato di acquisgrana e quindi qui sicuramente ne avrà, verranno fuori tematiche molto forti legate a queste elezioni alla prospettiva. Lottor Lombardini grazie, noi ci riaggiorniamo quindi presto, grazie del suo sempre preziosissimo contributo, prego, arrivederci a tutti, grazie, grazie Giancarlo, grazie Giancarlo, direttore responsabile di finanze in chiaro e ci vediamo alla prossima puntata.